Buonasera a tutti, apriamo oggi il nostro talk dedicato al terremoto in Siria. Come vedete dal cartello in sovraimpressione abbiamo voluto dare un titolo forte, così le sanzioni occidentali uccidono la solidarietà. Proveremo a dare in questo incontro organizzato dal centro italo-arabo del Mediterraneo con il contributo di Matex TV che è la web tv della manifestatura Tabacchi e di Upificio Innova che sta trasmettendo in questo momento in diretta questo evento di Sponda Sud, rivista di geopolitica. Proveremo a raccontare direttamente attraverso la voce dei protagonisti che stanno in Siria un aspetto che non è stato secondo noi sufficientemente affrontato che è quello appunto del gravissimo ritardo a causa delle sanzioni e delle ragioni che sono prettamente di geopolitica, diplomatica e non umanitaria, dei gravissimi ritardi degli aiuti nel territorio siriano. Voi sapete che il 6 febbraio c'è stato un terremoto terribile, oggi siamo arrivati tra i due paesi circa 50.000 morti, ma si è parlato fin troppo della Turchia e ci si è dimenticati proprio per questioni di geopolitica e di alleanze diplomatiche e di sanzioni, ahimè, inflitte alla Siria, ma a pagarne le conseguenze soprattutto il popolo, si è parlato molto poco del terremoto in quel paese. Noi oggi ne parleremo con Raimondo Schiavone che è il presidente del centro italo-arabo, lo vedete qui in collegamento, Naman Tarcia che è un conduttore, un giornalista, un conduttore tv siriano. Ciao Naman, benvenuto. Buonasera, buonasera a voi. E in collegamento, sarà difficile ma ci proveremo, ci collegheremo con padre Arut Artin Simonian che è un frate francescano siriano della custodia di Terra Santa e con George Stepà direttamente da Aleppo, un abitante di Aleppo. Ecco, ci racconteranno quello che sta succedendo in quel paese martoriato, ad oggi vi dicevo i morti accertati in Siria sono 6.000 ma il numero è certamente in difetto perché molte zone sono completamente sprovviste di aiuti, non sono arrivate le squadre di soccorso e quindi il bilancio è destinato drammaticamente a salire. Io chiedo la regia prima di partire di mandare un contributo video in modo da capire che cosa ha procurato il terremoto in una città come Aleppo. Prego regia. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. questo come evidente non è un terremoto normale ma lo è ancora di meno per la siria perché un paese che ha una guerra in corso da 12 anni stiamo per entrare nel tredicesimo anno e quindi il terremoto è accaduto insiste in un territorio in cui le infrastrutture sono danneggiate in cui intere comunità sono sparite o sono come dire sono dovuti rifugiare in altri paesi ma soprattutto quando parliamo di siria parliamo del terremoto della siria ecco chiedo poi alla regia di incominciare a mettere delle mappe così inquadriamo meglio il problema non parliamo di un unico paese il terremoto ha colpito almeno tre sirie ovviamente la siria ma per chi conosce anche la nostra la nostra posizione è chiara la siria è una la siria è quella del governo di damasco la guerra che c'è stata devastato un paese e ne ha ne ha smembrato l'unità ci sono però tre sirie poi lo vedremo ecco vedete il terremoto ha colpito esattamente il nord della siria e la parte diciamo medidionale del del della turchia è un terremoto che ha colpito una vasta aria dei due paesi qui vedete ancora meglio ci aiuta un contributo dell'ispi è sempre molto preciso lasciate perdere il numero dei morti che ormai è arrivato a cinquantamila tra i due paesi vedete che nell'epicentro ci sono state fortissime scosse e poi le molto forti sono in realtà quelle che hanno colpito anche aleppo hanno hanno colpito la regione di idlib e hanno colpito il nord che in mano ai curdi ecco quando io dico che il terremoto non ha colpito una siria ma ha colpito tre siri intendo che ha colpito tre territori che sono sotto governi e sotto controllo di forze diverse vedete la parte arancione in basso e quella più vasta dove c'è aleppo che la più grande città del nord del della siria che sotto controllo del governo di damasco ma vedete anche quella macchia viola quella è la è la macchia più critica perché lì il governo diciamo la provincia la regione di idlib che in mano ai cosiddetti ribelli chiamati ribelli della stampa occidentale in realtà sono milizie cediste filocaidiste insomma quelli che noi chiamiamo sostanzialmente quando vengono a mettere le bombe in europa li chiamiamo terroristi ma lì li chiamiamo li chiamiamo ribelli ecco quello è una porzione di territorio che non è sotto il controllo di damasco e questo ci farà capire tante cose e poi vedrete quella parte blu che confina direttamente con con la turchia che in mano ai kurdi ecco perché sono tre aree che hanno tre controlli completamente diversi qui sono al 9 febbraio di primi primi giorni tre giorni prima vedete un po chi chi si è adoperato i paesi che nei primi giorni si sono adoperati per per portare aiuti in turchia in turchia lispi lo precisa quindi il terremoto in turchia la diplomazia degli aiuti è significativo il fatto che lispi abbia usato proprio la diplomazia degli aiuti perché come vi diceva all'inizio purtroppo e me noi abbiamo ragionato abbiamo pensato sempre a inviare gli aiuti nelle zone colpite dal sisma pensando alle logiche delle alleanze alle logiche della diplomazia della geopolitica che l'errore più grande perché quando si ragiona in questi termini inevitabilmente a pagarne le conseguenze come vi dicevo il popolo e la popolazione la popolazione siriana già martoriata da tantissimi anni da oltre un decennio di guerra civile in questo momento sta pagando le conseguenze delle sanzioni e di un terremoto che purtroppo ovviamente ha creato enormi danni proprio a causa della mancanza di aiuti medicinali cibo ambulanze soccorsi vigili del fuoco protezione civile e chiedo alla regia di passare all'altra parte io mi limiterò siamo qui tre giornalisti sul palco ecco mi limiterò a raccontarvi a fare una brevissima fotografia di come nei primissimi giorni la stampa italiana ha raccontato il terremoto in siria il caso delle sanzioni alla siria che bloccherebbero gli aiuti umanitari quindi in questo caso il giornale che insomma il giornale che accusa chiaramente accusa chiaramente il governo di damasco di non aver chiesto gli aiuti e quindi la colpa la colpa sarebbe sarebbe assad che non che non che non fa arrivare gli aiuti in realtà ong associazioni chiedono di rimuoverla per permettere di inviare sostegno al paese quindi qui le ong e le associazioni umanitari gli organismi umanitari chiedono all'europa perché le sanzioni sono principalmente sono principalmente europee chiedono di eliminare quelle sanzioni perché individuano in quelle sanzioni delle principali cause dei ritardi e dell'assenza di aiuti a 48 ore dal sisma la siria chiede aiuto all'UE incredibile sostanzialmente nell'arco di un giorno ci sono giornali che imputano a damasco al governo di damasco di non aver inviato gli aiuti e invece e di non aver chiesto gli aiuti invece praticamente quasi subito damasco subito ha chiesto gli aiuti e ha chiesto e ha chiesto all'unione europea l'europa e all'occidente di rimuovere le sanzioni e di attivare tutti tutti gli strumenti per portare aiuti non soltanto sotto nei territori sotto il proprio controllo ma fin dall'inizio e si sono resi disponibili anche ad agevolare l'ingresso degli aiuti nelle zone che però non sono sotto il controllo terremoto in turchia e siria sa dalla fine che gli aiuti alla ue li distribuirò anche tra i ribelli terremoto siria sa di incontri presente della croce rossa quindi come dire anche qui un passo in avanti non vi farò vedere questo video terremoto l'italia invia aiuti alla siria nonostante le sanzioni europee aiuti bloccati dalle sanzioni il dramma nel dramma nel dramma siriano quindi ancora una volta una parte della stampa quello osservatore romano oggi parleremo molto delle comunità cristiane perché abbiamo in collegamento un frate francescano come vi dicevo e come stanno anche lavorando per portare aiuti alla popolazione terremoto in siria il ricatto degli aiuti così regime di assad blocca i soccorsi umanitari per fare pressione sui ribelli ma nello stesso giorno c'è chi dice terremoto i jihadisti quindi ribelli in siria bloccano l'arrivo di aiuti nei libri nell'idlib come vedete se una persona normale si dovesse affidare esclusivamente a quello che racconta nei giornali c'è da impazzire perché nello stesso giorno contemporaneamente ci sono titoli completamente diversi perché anche nell'informazione si ragiona sempre attraverso la logica dello schieramento eh dei pro assad dei contro assad eh dei filo occidentali insomma senza pensare che in questa situazione probabilmente l'unico obiettivo da tenere in mente l'unica l'unica prospettiva era quella di portare aiuti alla popolazione civile eh siria il consiglio proroga un altro anno le sanzioni contro il regime ecco questo qui è importante di un anno e del trentun maggio del duemila e ventidue ci dobbiamo ricordare che le sanzioni sono state prorogate di anno in anno e oggi le sanzioni ehm sono in vigore saranno in vigore fino al trentun maggio del duemila e ventitré e niente fa pensare eh da 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 quello che che trapela dalle dalle autorità europee dalle istituzioni europee eh niente fa pensare che queste sanzioni vengano vengano in qualche modo diminuite quindi questo sarebbe ovviamente un una beffa in in presenza di un terremoto così eh devastante e qui la comunità di Sant'Egidio che una comunità in Italia che si è contraddistinta per l'accoglienza dei profughi siriani ha lavorato con i corridoi umanitari insomma ha fatto un grande lavoro anche la comunità di Sant'Egidio indica nelle sanzioni alla Siria una delle principali eh diciamo eh la principali responsabilità del del della mancanza di aiuti in quelle aree terremoto in Turchia e Siria 35 NG chiede un accesso illimitato e un massiccio aumento della risposta umanitaria in terra siriana ecco eh io poi eh passo la parola subito a Raimondo Schiavone che è il presidente del centro di Talo Arabo per una valutazione su questo modo anche un po eh schizofrenico di raccontare eh in pochissimo tempo eh il terremoto in Siria qui parliamo proprio del terremoto in Siria di quella parte del di quella porzione di territorio di quell'area che è stata colpita dal sisma ecco eh è evidente che anche l'informazione come noi abbiamo potuto appurare in tanti anni di di guerra ha scelto ancora una volta di schierarsi e di fare come dire eh eh di fare un lavoro non in difesa della verità ma un lavoro sempre in difesa di altre logiche. Buonasera a tutti e grazie anzitutto di essere venuti fin qua per assistere a un evento ehm che parla di un tema eh del quale alla gente poco importa. Lo dico con la crudezza di queste parole perché sostanzialmente questa è la verità. Io credevo che eh in passato ho creduto per un periodo che fosse un fenomeno di strabismo cioè fosse determinato dal dallo sguardo dal dalla nostra attenzione, dell'attenzione di noi occidentali a guardare prevalentemente per ciò che accade e con favore a ciò che accade in occidente e mai a ciò che accade in altre parti del mondo con attenzione. Invece mi rendo conto che non è un problema di strabismo, non è un problema di occhi, è un problema di cuore, è un problema di cuore e lo dimostrano i fatti i fatti degli ultimi degli ultimi anni che è un problema di cuore. Il nostro cuore, dico il nostro perché anch'io sono di questa di quest'area geografica, di questo territorio, il nostro cuore guarda sempre da una parte, ha attenzione solo a una parte, il nostro cuore non è attento alle problematiche di quel territorio e lo dimostra, non voglio fare paragoni ma siccome non sono noto per essere uno che sta dentro i crismi della correttezza nell'ambito della cosiddetta correttezza nell'esposizione politica, se pensate al confronto tra l'attenzione che la popolazione che noi diamo a quello che accade in Ucraina, quello che è accaduto in Ucraina e quello invece l'attenzione che noi diamo a quello che è accaduto in 12 anni in Siria, è completamente diverso, completamente diverso perché c'è un sentimento diverso, perché il nostro cuore ha una visione diversa, quelli sono vicini a noi, sono bianchi, sono, anche i siriani sono bianchi, però è una fotografia, sono bianchi, sono occidentali, sono europei, parlano e hanno una cultura più vicina alla nostra. Invece dall'altra parte, dall'altra parte verso oriente, sono diversi. Ecco questo, quindi fondamentalmente quando io ho ormai vent'anni di attenzione a questo mondo, dodici anni di attenzione, tredici anni di attenzione alla guerra in Siria, dopo esserci stato per quattro volte durante la guerra, mi rendo conto che non è un problema di strabismo, è un problema proprio di cuore. Noi abbiamo un cuore che ha una visione parziale delle cose. Poi è anche vero che il nostro cuore è afflitto da un problema fondamentale, che è quello della comunicazione che ci viene trasmessa dai media. Siamo tutti oggi figli di quella comunicazione. Per anni e anni e anni hanno voluto far, hanno voluto convincerci che ci sono dei mostri, che c'è il male assoluto da una parte, che c'è la negatività da una parte e che invece il buono è dall'altra parte. E i media piano piano, pochi sono rimasti lontani da questa visione, i media hanno costruito questa fenomenologia, hanno costruito questo modo di vedere le cose e attraverso le televisioni, se voi ascolterete, come tutti quanti le televisioni, Sky G24, il Rai 1, la 7, per citare le tre che sono più acanite, hanno una visione univoca, sempre da questa politica. Guardate, io ho fatto nella mia vita una politica passata, poi sono un pentito della politica. Però quando, per esempio, leggo gli scorsi, una affermazione di un gruppo come quello del gruppo politico del parlamentare PD, che dice che bisogna assolutamente mantenere le sanzioni verso la Siria perché bisogna contrapporsi ancora ad Assad, in un momento nel quale c'è una catastrofe in quel territorio enorme, nel quale muoiono donne, bambini, uomini, cittadini, persone. Questa è una cosa orribile, orribile. Aver letto quel documento a me mi ha ferito, mi ha ferito in quel petto di cuore che ancora guarda ad Oriente e non guarda soltanto dalla parte nostra. Mi ha ferito perché dico, ma che umanità ha questa gente? Che umanità ha questa classe politica? Che umanità ha il Parlamento europeo che ancora mantiene le sanzioni nei confronti della Siria, un paese che è allo stremo? Che umanità hanno gli Stati Uniti che rubano il petrolio siriano e tengono ancora un presidio in Siria, in un territorio non loro perché devono ancora rubare quel petrolio che è l'unica sussistenza che ha quel paese per poter continuare a dare da mangiare, perché qui c'è un problema di alimentazione, di gente che non ha da mangiare, di gente che è dovuta andare via, che è dovuta scappare. Parlavo prima con un amico siriano che è venuto qua a trovarci, le famiglie sono andate via, si sono spostate dalla Siria, sono dovute scappare, perché c'è un problema proprio non soltanto di guerra e di pericolo della vita, c'è un problema proprio di sussistenza. Raccontare un terremoto e quello che è accaduto lì senza tener conto di tutto questo, senza tener conto di quello che sta accadendo, senza tener conto della realtà, perché questa è la cruda realtà. Io vi racconto la mia ovviamente di opinione, ma su questa opinione ci si ritrovino molte persone. Questa è la cruda realtà e senza tener conto di tutti questi elementi non si capisce cos'è quel disastro che è accaduto in quel territorio. Oggi secondo me noi, la presenza di Naman, Naman è un grandissimo giornalista, io lo stimo veramente tanto perché ragazzo giovane che vive in Italia, che fa giornalismo in Italia, però ha sempre un'attenzione particolare, è una delle nostre fonti di informazione principali su ciò che accade in Siria, perché è trasparente, perché racconta quello che accade con le parole, con i video, quindi io non mi dilungo oltre, voglio che ci racconti lui le cose, però vorrei fare un ultimo accenno, un'ultima cosa. Ci sono pochi soggetti che intermediano gli aiuti, veramente, pochi soggetti. Ricordiamoci che l'unico soggetto credibile, l'unico soggetto credibile che intermedia gli aiuti, che realmente porti agli aiuti, non sono quelli che troviamo per strada, non ve li cito neanche, che raccolgono firme, soldi e aiuti per i bambini sediani, sono i francescani, solo i francescani realmente raccolgono aiuti per la Siria, quindi chiunque di voi, chiunque ci ascolti su Matex, si ricordi di questa cosa, di questo aspetto importante, stiamo attenti, stiamo attenti, perché c'è tanta gente che ci usa, ci usa per fare, non del bene, ma per aiutare persone che non meritano di essere aiutate. Grazie Mondino. Naman, insomma, hai ascoltato parole che probabilmente è difficile ascoltare in altri contesti, però tu conosci bene la nostra posizione, la nostra posizione è poi la tua, che ti seguiamo, e per questo stiamo diventati, come dire, anche partner in molti eventi che abbiamo organizzato. Ecco, raccontaci, in attesa di un collegamento, preme di tutto la tua impressione, quello che sai, quello che conosci, di quanto sta accadendo in questi giorni, in queste ore in Siria, e poi ovviamente anche a te una riflessione inevitabile su come l'abbiamo visto in media e i giornalisti, l'informazione sta raccontando e ha raccontato il sisma in Siria. Prego, Naman. Buonasera a tutti, ecco, innanzitutto vorrei ringraziarvi, perché non è facile, non è facile trovare uno spazio per parlare, nonostante io sia siriano, giornalista, di Aleppo, nulla, silenzio totale. L'unico contatto che ho avuto con i colleghi italiani è stato per chiedermi se c'era qualcuno lì, non per chiedermi null'altro. Il racconto del terremoto oggi rientra proprio nella fiabba che i mass media ci hanno raccontato, continuano a raccontarci. All'inizio del terremoto io quel giorno non mi sono svegliato, ovviamente potete immaginare la situazione, quindi non riuscivo neanche a capire cosa dovrei fare, perché so benissimo che non potevo scrivere ai miei parenti, ai miei amici, quindi mi limitavo a dire due parole, perché so che non c'è corrente, so che si trovano in situazioni, avevo solo bisogno di capire se erano vivi. E invece il silenzio. Poi piano piano si comincia a parlare del terremoto. Il terremoto in Turchia, la Siria nulla. Viene cancellata la parola della Siria. Piano piano si comincia a parlare Turchia e Siria. Poi il racconto ovviamente viene in modo evidente che c'erano tantissime vittime in Siria e quindi devono parlare. E si comincia a dire sì ci sono anche in Siria delle vittime. Dove sono non si sa, dove si trovano non si capisce. Poi sto raccontando un po' l'evoluzione del racconto del terremoto fino ad oggi. Si comincia a parlare degli aiuti urgenti, perché un terremoto così devastante ha bisogno di urgenti aiuti. E cominciano i giornalisti colleghi italiani a dire l'Italia in primo luogo, sono arrivati i soccorsi in Turchia e in Siria. Però in quella e in Siria non significava niente, perché non c'era arrivato nulla in Siria. E quindi la gente comincia ad alzare la voce e dire ma scusate, dove stanno arrivando? Dove? In quale parte della Siria? Non era arrivato nulla in Siria. Dopo cinque giorni e nulla degli aiuti umanitari dell'Occidente che predica i valori civiltà e umanità era arrivato. In quel momento non stavano le vittime a morire. Non era la popolazione siriana che stava a morire, ma l'umanità dell'Occidente che stava a morire. Piano piano si comincia a dire, però dobbiamo aiutare la Siria, ma non aiutiamo Assad. Assad, il regime siriano, sta impedendogli aiuti. Poi la FAO e le Nazioni Unite, le organizzazioni internazionali, cominciano a dire guardate che nella zona di Idlib, che è una delle zone della Siria colpite, i famosi ribelli baluardi della democrazia non stanno facendo passare nessuno. Poi cominciano i giornalisti, i colleghi rispettabili a dire, ok, dobbiamo aiutare la Siria, ma manteniamo le sanzioni. Ed esce il famoso comunicato del gruppo parlamentare del PD, dove dice, in pratica, e in coro tutti i giornalisti di tutte le aree politiche italiane, in breve, secondo loro, per evitare di aiutare il regime siriano e salvare la popolazione siriana, bisogna farla morire. Ecco, lasciamo morire la popolazione siriana sotto le macerie per evitare di aiutare il regime siriano. In breve, questa è la logica. Per salvare i siriani, li facciamo morire. E questa è la logica che fino ad oggi continua a regnare in Occidente, da embargo alle sanzioni. Naman, ecco, invece raccontaci, chiedo alla regia sempre, se ci sono già i collegamenti, mi fate un cenno. Chi c'è, padre? Ci sono entrambi. Allora, se ci sono, me lo mandate in onda, così lo sentiamo. Padre Arut, giusto? È già collegato? Sì, ci sono. Mi sentite? Perfetto, perfetto. Salve, padre Arut, come sta? Buonasera, benissimo, bene, grazie a Dio. Sono qui in Siria, a Damasco in questi giorni, ero ad Aleppo mentre è caduto il terremoto. Buonasera a tutti, ciao, Naman, siamo amici da molto tempo. Dunque sì, la situazione qui è molto misera, il vostro intervento sarebbe un risveglio per la popolazione italiana, ma anche per gli europei che ci segue. Noi francescani abbiamo molti conventi, parrocchie qui in Siria, Siamo a Damasco, a Latakia, Idleb e a Aleppo. Durante questi 12 anni di guerra noi siamo sempre stati accanto alla popolazione, soprattutto i poveri, immaginati, perché sono quelli che hanno più bisogno. E con il terremoto era una devastazione più forte per la gente che soffre i 12 anni di guerra e più questa catastrofe naturale. Il mattino del 6 febbraio alle 4.15 io stavo facendo la lavatrice perché l'elettricità viene di notte, verso le 1, 2, poi rimane 3 ore, quindi in quel tempo tutti si svegliano a fare lavatrici, a riscaldare l'acqua per farsi le voce, eccetera. Quindi era un momento, credo che tanti erano svegli già, perché la popolazione oramai vive secondo gli orari dell'elettricità o di quelle che si può fare per migliorarsi la vita. Tanti erano addormentati, soprattutto i bambini che secondo giorno andavano a scuola. Quindi i genitori tutti sono usciti fuori dalle loro... Ovviamente dovete capire che non è semplice il collegamento. Non solo la corrente elettrica, ma anche internet. Insomma, la connessione non è stabile, quindi posso immaginare la difficoltà. Quindi proviamo a ricollegarci. Dobbiamo avere pazienza perché appunto le connessioni non sono stabili. In alcune zone, sia le linee telefoniche che quelle internet, sono molto deboli. Quindi stiamo facendo uno sforzo veramente enorme. Naman. Ah, ecco, ecco, ecco. E purtroppo qui l'internet non è forte, va e viene. L'abbiamo spiegato, ma abbiamo... Prego, prego. Sì, quindi noi abbiamo aperto le nostre case, le nostre aule e tutti i spazi della parrocchia, dei conventi e abbiamo ricevuto quasi 4.000 persone al Terra Santa College. Era tutto pieno, le macchine, la gente che era venuta scappata nelle macchine, perché era più... faceva talmente tanto freddo che la gente rimasta nelle macchine e non voleva più entrare nelle strutture. Noi, da frate, abbiamo una cucina dove offriamo tre giorni alla settimana del cibo ai poveri, ai bisognosi. In queste ultime due settimane abbiamo aperto la cucina ogni giorno, dando ogni pasto per 4-5.000 persone. Quindi abbiamo assistito a molti malati, abbiamo portato fuori gli anziani, i bambini sicuramente con i loro genitori, ma soprattutto gli anziani che era difficile portarli fuori. Quindi tanta gente è scappata lasciando gli anziani dietro, soprattutto quelli che stanno nei letti. I frati hanno assistito con tutto quello che abbiamo, che potevamo ricevere o comprare in quel momento. Quindi adesso noi siamo molto aiutati dal Protera Sancta, è una fondazione basata a Milano, che ci aiuta molto per queste emergenze, sia durante la guerra che adesso che durante il terremoto. Padre, ne faccio una domanda, può spiegare anche al pubblico che ci segue da casa e al pubblico presente perché le sanzioni stanno ritardando gli aiuti umanitari e perché le sanzioni occidentali hanno una responsabilità in questo momento nel ritardo dei soccorsi sostanzialmente alla popolazione? Perché? Dunque le sanzioni sono piuttosto verso il governo, non tanto per il popolo, perché come titolo hanno la salvaguardia del popolo. Cioè hanno sanzioni contro il governo, non tanto il popolo, ma è il contrario, perché il povero che è quello che soffre, il governo non soffrirà mai, troverà sempre un modo alternativo per fare business, per aumentarsi per le armi o altro. Ecco, come capite, insomma, sarà un collegamento con qualche pausa, ma avete capito qual è la posizione, ovviamente quello che dicevamo prima, poi a patire maggiormente il peso di queste sanzioni, come sempre, è la popolazione civile. me lo ribandate, ovviamente se è in collegamento. Naman, una tua riflessione sulle prime parole di padre Arut? Ecco, a proposito delle sanzioni pure, è uscita la notizia che gli Stati Uniti hanno allentato le sanzioni in questo periodo solo per sei mesi, quindi dopo sei mesi potete morire. In realtà riguarda solo, è una fake news, quindi da solo le transizioni bancarie, in modo particolare, in modo specifico solo per quanto riguarda gli aiuti e i soccorsi, quindi tutto il resto va bene, quindi arrivano gli aiuti, ma non c'è benzina per portare gli aiuti. Poi crolla una casa, non ci sono gli strumenti, perché mancano i macchinari, 12 anni, l'embargo fa questo, queste sono le sanzioni in pratica. Le sanzioni non è un panino, non è solo l'acqua, ma è tutto il resto, la vita quotidiana che diventa impossibile, diventa disumana. Crolla un palazzo, non ci sono gli strumenti per tirare fuori le vittime, è quello che è accaduto. Quindi i soccorsi che sono in ritardo, non solo i soccorsi di un aiuto alla popolazione è solo sfollata, ma proprio è una complicità di disumanità nel non soccorrere una persona sotto le macerie, perché non c'erano gli strumenti. E se ci sono, non c'è la benzina, non c'è il diesel per tirare fuori queste macchine, per utilizzarle. Se crolla oggi una casa, non puoi dare un cerotto a una persona e dirgli ok, adesso stai meglio, se crolla una casa ha bisogno di essere ricostruita. E quello è il problema delle sanzioni, non solo le sanzioni riguardanti il cibo, ma riguardanti le medicine, riguardanti i macchinari. Il sistema sanitario siriano, potete immaginare in che situazioni si trova, è completamente disastrato, non per il terremoto, ma per 12 anni di guerra dove i macchinari utilizzati negli ospedali sono diventati talmente vecchi che sono inutilizzabili e sono sopramobile messi negli ospedali. Queste sono le sanzioni. Bisogna spiegare alla gente che cosa vuol dire. Quando oggi viene alzata la voce per richiedere di togliere completamente le sanzioni e l'embargo, perché l'embargo fa questo, fa diventare la vita impossibile, disumana a una popolazione che non ha fatto niente di male, solo per il fatto di stare in quella zona e nascere in quel posto maledetto. Ecco, queste sono le sanzioni. Quindi, un cerotto a un terremotato non basta, non basta dargli un panino, perché questa persona ha bisogno di vedere il suo futuro, ha bisogno di ricostruire la casa, perché non può vivere. Possiamo anche donargli delle tende, ma poi, dopo sei mesi che cosa succede? Dopo una settimana? Mica una persona può vivere dentro una tenda per sempre. Queste sono le sanzioni e questo è il problema vero. Grazie, Naman. Padre Arut è in collegamento? Mi sente? Dunque, come diceva Naman, bisogna superare questi conflitti, superare queste sanzioni politiche e agire secondo il senso dell'umanità. Quindi prevalga l'umanità nella solidarietà reciproca. Quindi il popolo ha bisogno di assistenza medica, di assistenza per ricostruire le loro case, per aggiustarle, per trovare un tetto, una dignità umana. Quindi aiutateci a togliere le sanzioni o anche per far ricevere questi aiuti direttamente a noi, perché se passano attraverso altre vie possiamo anche perdere quanto possa venire direttamente a noi. Ecco, padre Arut, come possiamo fare? Diamo delle indicazioni su come possiamo aiutarvi direttamente. Poi l'altra domanda che le voglio fare è quanti siete frati francescani lì che state lavorando ogni giorno e che state dando da mangiare a oltre 5.000 persone? Dunque, a D'Alepo siamo in 5, a Latakia siamo in 2 e poi sono arrivati altri un po' dalla Terra Santa per aiutarci. Un modo per aiutarci è il Pro Terra Santa o il Franciscan Fund Relief che si trova negli Stati Uniti. Quindi ci sono molti altri metodi, per esempio mandando le medicine, collaborando direttamente con i frati. Abbiamo bisogno di macchinari come il CT scanner, per esempio, che non abbiamo. O quelli che c'erano sono rotti e non funzionano più. Abbiamo molto bisogno di strumenti per gli ospedali, sia ospedali cristiani che quelli dello Stato. Non importa che si chieda lo Stato o no. Quindi le sanzioni non devono essere per strumenti medicali o medicine che siano aperte le porte per far entrare questi aiuti al popolo che soffre. Basta con le armi, basta con il conflitto, basta con questa guerra che non fa male altro che ai poveri. Aiutateci con la vostra solidarietà. Vorrei chiedere la situazione a Idlib, in modo particolare, perché ci sono lì tre conventi francescani. Sì, a Idlib tre conventi. Uno è già stato distrutto durante la guerra, hanno ammazzato un religioso nostro. Poi Acubi è durante la guerra, rasa al suolo, sta a terra, più della metà della struttura, la chiesa e il convento. I cristiani sono sempre intorno al convento. Ecco, la domanda che ha fatto Naman è un po' quella che poi fa da sfondo anche a molte inchieste che abbiamo fatto. Uno degli argomenti che abbiamo affrontato maggiormente è anche la condizione delle comunità cristiane in Siria, che laddove sono, ahimè, capitate sotto il controllo dei cosiddetti ribelli, che non sono nient'altro appunto che estremisti, caidisti, insomma, quelli che nella peggiore delle definizioni sono i tagliagole, spesso le comunità cristiane, i cristiani sono i primi a essere martirizzati. Ecco, quindi non è facile essere cristiani in quella parte della Siria sottratta al controllo del governo di Damasco. E i frati francescani hanno fatto un lavoro, Naman è testimone, ma poi ce lo racconta anche, hanno fatto un lavoro incredibile durante la guerra, hanno patito le sofferenze peggiori, sono tantissimi i frati e i preti che sono stati uccisi, tantissimi cristiani che sono stati costretti a fuggire dalle loro case, a scappare in altri paesi. Il presidio di libertà garantito, di soccorso, di aiuto, di volontariato, la testimonianza di fede di queste comunità, a partire ovviamente dai religiosi, è incredibile. Se ne è parlato molto poco del sacrificio e del martirio delle comunità cristiane, ma sono veramente una testimonianza di resistenza in un paese che ha subito qualsiasi forma di violenza. Vero padre? Sì, tuttora noi soffriamo questa immagine che non possiamo suonare le cose dei segni della croce, non si possono mettere in condosso gli abiti nei luoghi pubblici, qui dentro gli spazi del convento. Quindi dicevo che noi cristiani, Francesca, come realtà cristiana, a prendere cura dei cristiani ortodossi, protestanti, cattori, un altro sacerdote, non c'è un'altra parrocchia, siamo gli unici, noi francescani, a prendere cura. Poi quando arrivano gli aiuti dall'Occidente per quelle parti del paese, solamente solo ai ribelli e quelle comunità, a noi cristiani non arriva niente, quindi noi cerchiamo sempre di mandare degli aiuti a Edleb, il che è di molti checkpoint e controlli di difficoltà varie. Anche all'Atachia, due giorni fa c'era un terremoto, lì abbiamo tutti i campanili delle nostre strutture rotte, abbiamo dei tetti molto rovinati, però questo tutto si può ricostruire, l'importante è ricostruire la vita della gente, dando un supporto. Va bene, io direi che comunque il collegamento lo possiamo chiudere, magari alla regia diciamo, poi lo saluteremo successivamente, diciamo che possiamo chiudere il collegamento, invece noi abbiamo, datemi confermo, un altro collegamento con George Stepache, un abitante di Aleppo, che è anche la città di Naman, Giorgio parla in arabo, quindi Naman gli rivolgerà le domande, noi vorremmo sapere appunto qual è la situazione oggi ad Aleppo, dove era Giorgio e che cosa ha visto con i propri occhi in quelle ore drammatiche, ma soprattutto anche un suo punto di vista su quello che stiamo raccontando ormai da quasi un'ora, sui gravissimi ritardi che è negli aiuti, insomma a causa appunto delle sanzioni. Quindi chiedo alla regia di fare entrare in collegamento a George e a Naman di parlare con lui, di interloquire con lui e poi fare una traduzione a beneficio degli spettatori. Dovrebbe essere collegato. Naman poi... Ma sta bene, Giorgio. Giorgio Atsmani? Buonasera, Giorgio. Non sento... Stiamo provando, capite che è veramente complicato. Giorgio dovrebbe essere addirittura forse in collegamento video, però ci risulta collegato. Adesso appena si collega lo mandiamo subito in onda, interrompeteci, regia così non perdiamo del tempo. Volevo fare una... Ecco, io volevo raccontare un po' anche questa difficoltà, potete immaginare la fatica, perché uno non riesce neanche a sentire i suoi parenti, non riesce a capire come stanno. Io questi giorni ho ricevuto un sacco di messaggi anche di persone che conosco, di amici, amici di infanzia, che mi hanno raccontato le loro esperienze brevemente, tutte cose drammatiche. Ho cercato di raccontarle su Twitter per quanto possibile, di riportare, di essere la loro portavoce, perché siamo nel 2023, non è ammessibile che una popolazione venga massacrata in questo modo, è un occidente che chiude gli occhi davanti a una catastrofe simile. E comincia a mandare gli aiuti oggi, in questo momento. Oggi è arrivato un aereo tedesco, dalla Croce Rossa tedesca, in realtà, e per la prima volta è atterrato all'aeroporto di Damasco. Ieri un altro aereo norvegese. Sono i due primi aerei che arrivano direttamente dentro il paese. Potete immaginare la difficoltà perché prima di questo l'Italia è stata, tra virgolette, il primo paese che ha permesso di mandare aiuti, ovviamente ringraziando in primo luogo l'opinione pubblica italiana, il popolo italiano, che conosce molto bene la sofferenza, conosce molto bene qual è la situazione sotto un terremoto. Ecco, l'opinione pubblica e gli italiani sono, secondo me, in questo momento, sono il motivo vero di questo cambio di rotta, anche a livello europeo. In qualche modo, sotto questa pressione, anche il governo italiano, in qualche modo, ha sentito il dovere di fare qualcosa, di muovere qualcosa, perché la gente non capiva perché, come mai i paesi più ricchi al mondo, l'Europa che predica umanità, non muove un dito per una popolazione che dista tre ore di aereo dall'Italia. In questo caso, Naman, chiedere alla regia, così poi ce lo commenti, se può mandare la regia, in onda il secondo filmato che tu ci hai mandato, così ci racconti quello della notte sostanzialmente, ci racconti a che cosa si riferisce. Prego, regia. Grazie. 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 Ovviamente il ringraziamento vale alle forze dell'ordine, all'esercito, soprattutto all'aeronautica, che ha permesso il trasporto in coordinamento con la Farnesina, ovviamente, verso Beirut per poter consegnare questi aiuti umanitari alla Mezzaluna Rossa. Oggi gli aiuti che sono arrivati dalla Germania e dalla Norvegia sono andati direttamente alla Mezzaluna Rossa, che sarebbe la filiale della Croce Rossa, lavorano in collegamento. Sono i primi aiuti che arrivano dentro il paese, quindi hanno aspettato tutto questo tempo e, ripeto, nessuna squadra di soccorso è arrivata. Oggi, se non sbaglio, c'è stata anche una firma tra la Mezzaluna e un'agenzia, l'agenzia per lo sviluppo e la cooperazione italiana, che è un altro passo, diciamo, importante, simbolico. Ovviamente, grazie anche all'aiuto dell'ambasciata italiana, che con l'incaricato per gli affari italiani a Beirut, che si trova, per la Siria, ma si trova a Beirut, perché è all'ambasciata di Beirut, grazie a loro è stato siglato questo accordo, ma è stato, ci è voluto un po' di tempo, è stato un primo passo. Abbiamo in collegamento a Giorgio tramite Whatsapp. Vai tu, Naman, vai tu. Grazie a tutti, Giorgio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. La prima cosa che è successo è la notte È stato un momento molto complicato per me Aspetta, dico la regia di abbassare il volume di Giorgio Però non mi sente così Lo vorrei dire di aspettare un secondo Se no non riesco a riassumere tutto Raccontaci quello che ha detto nella prima parte Poi recuperiamo la seconda Esatto, la prima notte è stato un momento molto complesso Perché ci siamo svegliati tutti sotto shock E la gente ha cominciato a correre A scappare dalla casa Io ho salutato mia moglie e mia figlia piccola A Junco che non sapeva se li avrebbe rivisti Perché Giorgio porta le stampelle Quindi avendo le stampelle non poteva scendere E ha dovuto restare dentro casa Col terremoto Mentre tutti gli altri sono andati via Perché non poteva scendere con loro E ha dovuto aspettare fino alla mattina Fino alle nove Mentre gli altri e la sua famiglia è andata via Con tutta la gente del palazzo Tutti i vicini Che sono scappati e sono nascosti dentro le macchine Lui invece è rimasto lì da solo Aspettando che tutto passi Giorgio? Ha avuto un problema tecnico Si sta riconnettando E caduta la linea Sì ovviamente È normale Senti Appena si ricollega Naman traduce l'ultima parte E poi andiamo anche in chiusura Nel frattempo magari Prima che Giorgio si ricolleghi Approfittiamo di questi buchi Che può essere sempre utile Facciamo vedere il terzo video Che dura anche quello pochissimo 30 secondi Quindi lo usiamo un po' come tappo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ecco evidente Lo vedete Queste sono le primissime immagini A pochi minuti Poche ore dal terremoto Si portano i feriti Appena estratti alle macerie Con taxi Con le macchine Con tutto ciò che... Anche perché le ambulanze non ci sono Abbiamo ristabilito la connessione con Giorgio Si facciamo l'ultimo L'ultimo diciamo L'ultimo intervento di Giorgio E poi andiamo a chiudere Per rispettare... Giorgio Hachili Ok, vi chiedo scusa perché è andata via la corrente E quindi dobbiamo aprire il generatore Per farvi capire la situazione Potete immaginare in tutta questa catastrofe Cosa vuol dire avere le sanzioni Mentre le risorse siriane Vengono saccheggiate Da i nostri amici americani Che occupano i giacimenti di gas e petrolio Nel nord-est E George Campbell Nella seconda scossa che è stata Ho dovuto comunque scendere perché mi hanno obbligato a scendere Non volevano lasciarmi lì E Cammel E Cammel, Cammel Abbas Ma'è Quindi ha dovuto andare nella cattedrale francescana Perché non sappia sa che quando mi Sono sfoggiate Ho ceruto dalle Dicci amici quanto va aversendare E qual è la vostra eccezza E qual è la tante E qual è la situazione Per tutto La tante Le rispettare E dal Buon sentirsi Bossa Il rispettare La nangiamo Il rispettare Il rispettare Il rispettare Il rispettare Il rispettare Il rispettare In questo Senere Il rispettare Il rispettare avevamo una guerra, e noi conosciamo che quando la guerra succede, siamo a morire sul domenico, e siamo a coperti, ma quando si è un zilzale, il mio luogo che non c'èato con il diritto, siamo a morire. Per spiegarvi la situazione oggi, in 12 anni di guerra, ogni volta che sentivamo un pericolo c'era qualcosa di pericoloso, ci rifugiavamo nelle case nelle nostre case oggi proprio nelle case la gente ha paura proprio dentro casa ha paura e la gente non vuole più stare dentro la propria casa quindi la situazione è un completo disastro e Camel mia figlia mi ha chiesto di svegliarla da questo incubo promettendomi di andare a scuola dicendo che non vuole più vedere queste cose perché preferisce andare a scuola piuttosto che stare in questa situazione e scelio mehtiaggia bene svela l'aduie bene svela l'aduie io miro amma alo 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 per rispondere al'aduie giovanni a che c'è all'aduie sorry ma se a che c'è alo 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 e che non ha avuto il mondo che non si stia a fare un'acqua, 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 un'acqua. Non c'è un'acqua, c'è un'acqua, c'è un'acqua. C'è un'acqua, un'acqua molto difficile perché non sapevano che ci siamo avanti. Oggi la situazione della gente è molto complicata perché siamo un paese non pronto ad affrontare una cosa del genere. Non abbiamo gli strumenti, ne abbiamo dopo tutti questi anni di guerra la possibilità di affrontare un catastrofe simile. quindi non siamo a livello della terra, siamo sottoterra. La gente non sa dove andare perché fa molto freddo, quindi non ci sono le tende, ci sono le coperte e le famiglie sono coperte, sono per strada sotto le coperte. Chi è il Giorgio al-duie? Pronto, Giorgio? Non so se mi senti. Giorgio al-tsmani? Non mi si ricordo. Non mi senti. Non mi senti, adonati? Ci sono un'acqua, è ok? Èlinesi. Chiaré un'acqua, questo è un'azola. abbiamo proprio abbiamo l'ospettare, quindi ho messo con un'essere, non c'è una moto, perché non c'è un pollo che non c'è un pollo di ferro e quindi, non c'è un pollo per andare a questo canale non c'è un pollo, non c'è un pollo del percorso. Non c'è un pollo che ci askemi passi per evidere, perché non c'è un pollo che non c'è un pollo di f nueve Anche io... Naman prego, poi andiamo a chiudere dopo questo pezzo. Allora mi stava dicendo che in questo momento non sappiamo neanche dove andare, come avete visto nel video. Anche per spostarsi è difficile, perché chi ha la macchina non ha la benzina, quindi tutto diventa impossibile. Prima mi ha raccontato, in questi giorni mi ha raccontato George che lui prende delle medicine che vengono rilasciate dallo Stato. In questo momento non ci sono. L'unica medicina che sta prendendo in questo momento, che è obbligato a prenderla per problemi di salute, sono medicine scadute. Quindi non è vero che le sanzioni non riguardano gli aiuti umanitari, non è vero che gli aiuti non riguardano le medicine, che non è vero che gli aiuti e le sanzioni non riguardano la vita quotidiana della gente. Per colpire il regime, per tutto il bla 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 che i giornali continuano a raccontare. Oggi quello che sta pagando la popolazione siriana è sopra la possibilità umana. Quindi la mia richiesta, come mi ha scritto anche la figlia di un mio amico, mi ha chiesto di dirvi, di dire all'Occidente, non sapendo che l'Occidente è molto difficile, soprattutto è molto difficile farsi capire e ascoltare e far arrivare la loro voce. Mi ha chiesto solo un po' di umanità. Mi ha detto non vogliamo niente, possiamo anche attendere, ma vogliamo da voi solo un po' di umanità. Perché il popolo siriano in questo momento si è sentito abbandonato. Già è stato abbandonato 12 anni di guerra, ma oggi questo abbandono è stato definitivo. Grazie Naman, ringraziamo anche Giorgio e Stefano D'Aleppo che ci ha dato una testimonianza ammattica, un uomo come dire che non può deambulare, che ha le stampelle, che deve prendere delle medicine. Ecco, da una storia piccola e emblematica di una condizione, di una comunità, di una collettività. Non abbiamo parlato, si potrebbero veramente narrare tante piccole storie che sono la cifra di quanto sta accadendo in quel paese. Non abbiamo parlato dei bambini che non capiscono, non capiscono perché sono nati sotto le bombe e devono continuare a vivere sotto il peso delle macerie per un evento catastrofico e naturale. Noi abbiamo provato nel nostro piccolo, con il Centro Italo Arabo, con il supporto veramente preziosissimo di Naman, che è un testimone che ogni giorno racconta attraverso i suoi canali social, offre una testimonianza costante di quanto accade nel paese, fa informazione in maniera seria, professionale. Questo, come dire, è per noi anche una fonte attendibile, perché sappiamo, ci lavoriamo da anni, da quando appunto ci siamo occupati dalla guerra, a fin dei primi giorni, quindi sappiamo che tutto quello che arriva dalla Siria, arriva dalle voci che avete sentito, ecco, non sono figuranti, attori, abbiamo chiamato persone che in questo momento stanno lì, stanno da Aleppo, stanno a Damasco e loro costantemente in questi 13 anni ci hanno raccontato quello che accadeva, che era molto diverso, per chi fa questo lavoro da tanto tempo, era molto diverso da quello che spesso veniva raccontato dai media. Io direi che possiamo andare a concludere, noi vi ringraziamo, speriamo semplicemente di aver fornito qualche elemento in più per capire questo dramma, cercheremo attraverso i nostri canali anche di aiutarvi a capire quali sono i canali migliori per aiutare la popolazione siriana, noi ne abbiamo uno, l'abbiamo presentato, che sono i frati francescani della custodia di Terra Santa, quindi sappiamo che sono delle persone che stanno facendo un lavoro incredibile, in cinque, cinque frati danno a mangiare ogni giorno a 5.000 persone, capite che è uno sforzo enorme, quindi ha ragione Naman, un po' di umanità, meno geopolitica, meno diplomazia e un po' di umanità, questo sarebbe sufficiente ad aiutare la popolazione siriana. Vi ringraziamo per essere stati qui e buona serata a tutti. Grazie. 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 Grazie.